Basta belli per le donne e solo belli per se stessi. Signori, volete dimagrire? Volete togliere la pancia? Ebbè, cosa aspettate? Una psicologa, nostra amica. Ma è matato. Senti questo prosciutto, senti com'è tutto. E ho mangiato. Senti questo prosciutto, l'ho detto è dolce. È un zucchero, Sergio, lo sento. E sto lì, senti questo lì, questi sono grechi, sono... grechi. Torrone, noccioline, salami, caramelle, cioccolato, lonza, provola, buste. Moule marinière, pâté de foie gras, beluga caviale, uova benedettante, tarte de poirot, ossia torta di porri, cosci di ranamandain, uova de quaglia, charche de pe, c'è t'avire piccole uova di quaglia su un canapè di poire di fonghi molto delicato e raffinato. Mi porti tutto. Ti sei mangiato un supermercato? Ti farò dimagrire. A calci nel culo. Il prodotto va usato mattina e sera, sera e mattina e la pancia se ne va. Ma io come faccio a dimagrire quando questo fior di il poco il doppio di me? Guardate che pappa gorgia che ha. Se volete me la mando tranquillamente, eh. Qui comando io e ti faccio la lavanda gastrica, hai capito? Avanti, giù, giù. Non c'è alcun problema? Una centomila. Latte condensato? Pasta d'acciughe. Si lava i denti con la pasta d'acciughe. Io penso sia il caso di acquistarne quattro confezioni, dico quattro? Per forza, la bocca che sembra una pizza. Bonsoir, monsieur, come andiamo oggi? Meglio. Meglio, voglio avere un secchio, sto per vomitare. Gaston, un secchio per monsieur. Siete grotteschi, grotteschi e disgustosi. Perché mangiate se non avete fame? Non è possibile, non hai fame. Che bisogna fare per divertirvi? Qualcos'altro che mangiare, 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 sempre mangiare. Perché siamo tutti a dieta, Maxi. Ma come, ti sei riempito il piatto di roba e non mangi? Allora lo fai apposta per farmi incazzare. Gli ho dato un tasto in bocca. Mi è cascato per terra come Gesù Cristo. Io l'ho terzetto nasale, gli ho frantumato le mucuse. E gli dicevo, alzati, 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 al petto. Pieno di sangue per te, era il tonidri. Non si alzava. Mi spiace, ma ho decisamente più esperienza di te nei combattimenti. Poco fa, mentre stavi lottando, ho succhiato via tutta la forza dalle tue gambe. Io ti porto la storia di Persia. Tra poco non sarai più in grado di muoverti. Per babbola, scritta a mano. Non voglio sentire... È grande, Orlando? Stavolta non avrò pietà. Colpirò direttamente il centro del tuo cuore. Lo spaccherò in due. Preparati a morire. Questo no! Il più classico in assoluto. E tu sai che se vai sul classico non sbagli mai. Il classico non passa mai di moda. Questo è il più classico. Ma com'è possibile? Non ho colpito il punto segreto giusto. Non mi era mai successo. Com'è affatto? Non mi era mai successo.